Sono danneggiati, surriscaldati e mettono fumo o dovessero essere smarriti o cadere nella struttura del sedile, informati immediatamente gli assistenti di volo. Dispositivi più grandi, inclusi computer portabili, devono essere spenti e posizionati nel bagaglio a mano nelle fasi di decoglio e aderraggio. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un piacevole volo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.